Gesù storico. Ma posta cos'è la ricerca storica? Gesù rientra nell'ambito della ricerca storica? È certo che rientra nell'ambito della ricerca storica. E questo lo dice anche la teologia. Quando la teologia, nella sua massima espressione di solennità, cioè una definizione dogmatica conciliare, definisce Gesù vero Deus, vero Uomo, vero Dio, vero Uomo, sta dicendo che Gesù in quanto Uomo rientra nell'ambito della ricerca storica. Quindi lo ammette persino la teologia che Gesù rientri nell'ambito della ricerca storica. Non solo perché rientra anche nell'ambito della ricerca teologica in quanto Dio, ma questo è un altro discorso che vedremo qui avanti. Gesù è veramente esistito? Certo che è veramente esistito. Non è una questione trattabile perché non è una questione discussa. Cioè l'esistenza storica di Gesù non è all'ordine del giorno nell'ambito della ricerca perché è provata. Quindi vi risparmio la fatica. Qualsiasi video, qualsiasi documentario, qualsiasi lettura che potreste fare, che mette in dubbio l'esistenza storica di Gesù, lasciatela perdere. Perché accademicamente è una questione oziosa. Punto. E andiamo avanti. Quali sono i testimoni? Qualcuno ha visto? E ha lasciato detto? Ovviamente i testimoni che hanno visto Gesù sono morti da un bel pezzo. Quindi come facciamo a interrogarli? L'unico modo per interrogarli è lo storico detective ce l'ha leggendo i loro scritti. Ecco il grande problema che, se avete ascoltato la lezione del professor Iossa, veniva già messo in luce. Fondamentalmente i testimoni oculari che hanno lasciato scritto qualcosa su Gesù sono tutti di parte. Non sono neutrali nel loro giudizio verso Gesù. Apro parentesi. Di solito nessun giudice, nessun testimone è del tutto neutrale. La neutralità in questo caso non è data tanto dalla qualità del testimone quanto dal fatto che vi siano testimonianze indipendenti. Non condizionate né da un giudizio di valore nei confronti della persona di cui si parla, né, potremmo dire, condizionate tra di loro perché tra loro sono comunicanti. Quello che accade con Gesù, invece, è che le testimonianze più antiche che noi abbiamo, cioè più vicini ai fatti, sono tutte testimonianze cristiane. Tutte. E quindi hanno, nei confronti dell'oggetto della ricerca Gesù, una visione precisa. indirizzata in una certa direzione. Inoltre, anche se la questione è discussa, molto discussa e forse irrisolvibile, queste testimonianze più antiche, che sono i Vangeli, i quattro Vangeli canonici, sono anche i quattro Vangeli più antichi, secondo, come dire, ottime probabilità, è discusso e forse non è risolvibile il fatto che queste testimonianze siano tra loro comunicanti. Si discute sul quarto, in una certa misura sul secondo, però, con buona probabilità, almeno c'è il sospetto che i Vangeli tra loro si conoscessero, o almeno le loro fonti. Quindi, diciamo, non sono testimoni indipendenti, qualcuno copia dall'altro, mettiamola così. Quindi non sempre valgono quattro testimonianze, ma se io so quello che mi dice lui, vale una testimonianza. La questione è molto complessa, ma qui non è questo, non è questa la questione su cui vorrei soffermarmi. Vorrei soffermarmi sulle testimonianze extracristiane. Sembrerebbe che le abbia appena negate. In realtà ce ne sarebbe una, tra le più antiche, che sarebbe quella di Flavio Giuseppe.